Ciao a tutti! Oggi prepareremo un contorno, le zucchine trifolate. Ci vorranno delle zucchine, un bicchiere di marsala, una bella cipolla, un misurino di brodo granulare di verdura, un paio di spicchi d'aglio, se vi piace il peperoncino, un po' di prezzemolo tritato e l'ingrediente segreto. Procediamo a tagliare le nostre zucchine e la cipolla. Detto fatto, a questo punto aggiungiamo il nostro brodo granulare, ricordatevi se lo trovate senza sale è molto più meglio assai, e poi aggiungiamo il nostro marsala e soprattutto l'ingrediente segreto e poi fuoco alle polveri. A questo punto dobbiamo solo aspettare che appassiscano, solo un po' di pazienza. Mi raccomando, cuocetele a fuoco alto. Adesso che sono un po' appassite, ma non del tutto, aggiungo metà del nostro prezzemolo. e gli darà un po' più di gusto. Il resto lo metteremo solo alla fine. Direi che sono pronte. In pochi minuti il nostro contorno saporito e sano è pronto. E adesso vi svelerò l'ingrediente segreto. Ma prima mettiamo il prezzemolo rimasto. È un ingrediente facilissimo, l'avrete indovinato. È semplicemente mezzo cucchiaino di aglio in polvere che gli darà un po' più di gusto. Se vi è piaciuta la ricetta, datemi un like e condividetela. E alla prossima soprattutto. Ciao!